Quest'anno giubilare può essere l'occasione propizia perché la fredda indifferenza di tanti cuori sia vinta dal carore della misericordia che trasforma il timore in amore e ci rende artefici di pace. È l'auspicio che Papa Francesco ha espresso agli ambasciatori di tutto il mondo, rappresentanti dei 180 stati che hanno rapporti diplomatici con la Santa Sede, incontrati nella Sala Regia del Palazzo Apostolico per i tradizionali auguri di inizio anno. Nel suo ampio discorso il Papa ha ricordato innanzitutto che ogni esperienza religiosa autenticamente vissuta non può che promuovere dialogo e pace, come è stato fatto a Bangui, nella Repubblica Centrafricana scelta per aprire la prima porta santa del Giubileo e per lanciare un messaggio di pace insieme alla comunità musulmana. Perché il dialogo, ha spiegato il Papa, è il miglior antidoto all'individualismo che è la radice dell'indifferenza verso il prossimo. Il cuore del discorso è stato dedicato alla grave emergenza migratoria, con citazioni di molti episodi biblici che narrano fatiche, dolori e speranza di un'umanità che è sempre stata in cammino. Accanto a chi fugge dai conflitti c'è chi fugge dalla miseria estrema e spesso non rientra nei sistemi internazionali di protezione. Occorre invece, ha chiesto ancora Papa Francesco, un impegno comune contro la cultura dello scarto, affinché altre vite non vengano sacrificate per mancanza di risorse e volontà politica. Anche oggi, e prima che sia troppo tardi, molto si potrebbe fare per fermare le tragedie e costruire la pace. Ciò significerebbe però rimettere in discussione abitudini e prassi consolidate a partire da problematiche connesse al commercio degli armamenti, al problema dell'approvvigionamento di materie prime e di energia, agli investimenti, alle politiche finanziarie di sostegno allo sviluppo, fino alla grave piaga della corruzione. Siamo consapevoli poi che, sul tema della migrazione, occorra stabilire progetti a medio e lungo termine che vadano oltre la risposta di emergenza. Questo vale anche per l'Europa, chiamata a non perdere i suoi valori di umanità e a trovare il giusto equilibrio tra il duplice dovere di tutelare i diritti dei propri cittadini e garantire assistenza e accoglienza dei migranti.